John Hart Hey! Sono John Hart Benvenuti a Quali Trigger? La scuola che negli a noi La scuola che non hai La scuola che non hai vogliamo iniziare benvenuti o bentornati ad un nuovo episodio della serie quale trigger come sempre lasciate un like e un commentino qui sotto se vi piacerà questo video e vi ricordo che da 2023 a partire da quest'anno ci sta anche la versione su TikTok dove potrete giocare per i nuovi partecipanti o per qualsiasi dubbio potrete trovare le regole di questo gioco in infobox ossia in descrizione di questo video oppure in un commento fissato in alto su questo video su ogni video, ogni episodio ed infine anche nella stessa sigla di questa serie nell'episodio precedente il suono dell'oggetto che ho riprodotto era di questo qui il suono dell'oggetto che ho riprodotto e adesso saluto i vincitori dell'episodio precedente un saluto speciale va a Flameshark 1926 Jacopo No.1 Luca B Lowe Serez Federico Cisanetti Sara Romero Mirko Abate Francesco Guerra Giuse Lady Trilli Matteo Castiglioni Bravissimi Very good Continuate così Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.